Salve ragazzi, eccoci di nuovo qui in questa nuova puntata di Minecraft, la ottava. Come abbiamo detto nello scorso episodio, dobbiamo terminare la nostra coltivazione di cane da zucchero, l'abbiamo decisa di fare sotterranea perché fuori c'è ghiaccio quindi non possiamo innaffiare le nostre piante. Quindi possiamo iniziare, ora metteremo i secchi d'acqua, a partire da qui. Ah, ho creato una pozza infinita qui per far esistare, per essere più veloci insomma. Oh, che è? Mi ero bloccato. Aspetta eh. A differenza del grano la canna da zucchero non serve, non ha bisogno di, della terra fertilizzata. E potete anche usare dei cubetti di, di sabbia per piantare le canne da zucchero. Ah, ricordiamo sempre ai nostri visitatori di mettere un mi piace e di commentare il video e di iscriversi al canale. Siamo arrivati all'inizio. Sì. Come vi ho detto vorrei mettere delle lanterne di glowstone qui sul soffitto. E' per, uno per avere più, più luce e due per, sembreranno dei, dei lampadari fatti apposta. E sarebbe più carino da vedere. Tanto siamo quasi alla fine. Si, manca un lato e mezzo. E' molto simile allo stile della cascata del grano. Ma questa è in, eh, ne è stata nella, nella parete. Molto carina da vedere. Abbiamo quasi finito. Manca poco. Poi secchi d'acqua. Ovviamente se siete soli vi potete craftare più secchi d'acqua e fare più viaggi. Qui non so perché si è tolto la nostra acqua infinita. A vero, prendiamo due blocchi. Eh sì, così mostriamo con forma. Allora, vi ho appiazzato. Sì, dove vuoi. E poi nel, 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 dal tuo posto. Dobbiamo raccoglierla, una, dobbiamo aspettare che si riformi l'acqua infinita. Tanto abbiamo, quali, mancano due, no, di più, altri tre secchi. Cuidiamo qui. Ecco, un secchio è addosito. Ok, basta. Può bastare? Sì. Ora inizio a mettere le, le canne da zucchero e abbiamo un termine. All'altezza della, della stanza è di tre. Perché la canne da zucchero cresce al massimo di tre cubetti. Quindi, stiamo a posto. Ovviamente non coprirò tutta... Tutta la mia pagina. Tutte le linee perché... Abbiamo trovato solo questa di canne da zucchero girando per il mondo. Ma ne avremo altre qui, là. Ok, terminata. Poi vi mostrerò quando crescerà tutto. Possiamo chiudere. Ok. Ok, è questo. Dove si serve? Allora, prendiamo un... Accomando. Possiamo andare a... Dove... Boh, io direi di venire da qui, vieni teoremente, d'accordo. Così togliamo quest'acqua che c'è qui. Aspetta, mi serve una torcia. Ce li hai torcia? Eh sì. Ok, metti il tuo. Eh... Sei nel secchio. Ah no, ti hai nel secchio. Ma continua fin sulla... Vai in avanti così metti le torce. Tanto mangio un po' di... Anzi... Eh... Sto andando contro la corrente, ecco. Oh via. Eh, finisce qua sopra. Ok, basta. Possiamo togliere. Allora, così l'acqua scende. Aspetta. Ah, è terminata qui. Sì, non c'è più niente. Non c'è più nulla. Niente. Ok, possiamo scendere da giù. Tanto, l'acqua non va via. Eh, mi sa che c'è un'altro... Un'altra sorgente da. Ah, aspetta. Ecco, sto togliendo. Sento dei morti. Ecco. Eh, andava via. Oh, abbiamo l'ossidiano. Sì, vero. Eh, però adesso ci serve il diamante per i piccoli diamante. Se no, non... La spaccherebbe. Ma... Non ci darebbe... Il blocchetto di blocco di blocco di biondo. Togli... 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 Ma è usciva, avvinciva ma certo. Togli questo qui e basta. Quando questo è il blocco di blocco di blocco. Sì. l'uomo 1 e 2 2 giorni la immaginazione tutto l'acqua non so se c'è un altro l'esco a piazza del blocco c'è un altro? ok l'attento, perfetto passiamo qui tutto libero ok abbiamo la nostra la nostra scorta di orsidiana quindi quando troveremo del diamante possiamo no possiamo farci portare per andare nel net andiamo qui a destra, ci ha visitato quello stesso è chiuso qui è chiuso si, 15 mani, si vedi lì qui c'è del carbone, oddio ah, c'è un buon però di qui si può salire aspettando fai così ho uno uno scheletro no, ho rotto la torcia buttalo giù mi passa un po' di torcia ma no, aspetta me le posso fare no, me le posso fare no, no, me le posso fare tanto, non le metto le torci ok intanto facciamoci una scala da qui no, 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 si c'è una pala oh, attenzione, mi stavo sparando delle frecce c'è uno zombie che mi fessa rompi che io entro si ho fatto già a scagliare di rompere lì ok c'è un altro zombie un altro scheletto ok caldo giù rompiamo la scelta, facciamo un'accusa qui è diventato io ok così non cadiamo giù metti in blocco ho visto del tuo ah, c'è un altro un altro spawn l'abbiamo trovato l'ho piossa l'ho dopo di torci ecco l'altro spawn parola tricci vai 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 a mettere a piacere torci velocemente perfetto porti ti abbiamo trovato un po' no nulla abbiamo un secchio del pane grano un secchio un cocobinz che quass'è il cocobinz sono i semi di cose di piccola gioia sarebbero ah, i fagioli eh, non era tradotto ecco perchè ok prendo tutto prendo tutto prendo anche la città c'è un'occasione c'è un'occasione c'è un'occasione abbiamo trovato un altro d'angelo siamo fortunati questo era di scheletri invece l'altro era di trotto carbone ah, qui sì oh continuo si congiunge dove eravamo primo aspetta un po' una torcia prendiamo carbone oh si è rotto non ci metto io no ecco eh, ce n'è parecchio perfetto perfetto finito tutto puoi anche chiudere chiudo? si spavano un mostrico vai oh, attenzione qui è aperto oh, vai ok qua posso rompere noi mettiamo una torcia siamo che non importa che scendiamo no 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 dobbiamo venire lì qua sopra tanto c'è del carboni cancene anche qui vorrei prendere qui sotto mi sa che c'è un altro eccolo aspetta non mi proverò a scendere dove sei? ah, è col carbone sì c'è 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 tanto carbone qui non voglio di sotto io qui raccolgo questo qui 1 ok ok ho preso tutto il carbone che c'era qui dove dire di sotto ecco ma sembra ci serviva un bel riprendimento di carbone sì sì infatti ne avevamo pochissimo quindi qui non c'è c'è solo lava qui sotto ok perfetto chiudiamo qua un po' un po' un po' possiamo andare via si metti una torcia lì così si aspetta mi chiedere lì sopra vedo qualcosa dobbiamo provare salire oh oh usaci cosa c'è siamo per cascare dove dove devo salire sì ora mi faccio una via torcia ok qui è chiuso sotto no non è chiuso manca poco volare di sotto non vorrei proprio volare di sotto ora c'è una via si dove vedere solo si stiamo salendo b intanto sei vicino s no no ho intenzione di mettere una cesta qui sì io ce l'ho eh prova a buttarla giù la prendiamo dopo il passaggio no ho fatto qui vediamoci qui 2 questo e questo perfetto tutto ciò che abbiamo trovato nella cesta il secchio non solo questo metto altre c'è un frattaccio servono metto l'alte che con la colore per quello ma rezzo un po' servizio ma la pala premio no si la parla no è la zappa no ok possiamo fermarci qui e poi proseguire nella prossima puntata l'esplorazione delle miniere quindi ragazzi qui è tutto io sono roccio 90 due mio amico chiorema bella raga sempre alla prossima raga a presto grazie